cominciate la giornata con i cartoon cartoon alle 7 fate colazione con uova e yogurt ci sono mucca e pollo dopo una scurpacciata di coraggio c'è leone il cane fifone e poi leccatevi le dita con donato fidato e matteo bebeo da lunedì a venerdì a partire dalle 7 colazione con i cartoon la mattina più gustosa su cartoon network